Ma sì, ho saputo di giocare la sera prima per il problema familiare che ha avuto Francesco, però sono stato sempre tranquillo, io fortunatamente riesco a gestire bene le pressioni, quindi sono andato in campo con serenità, perché comunque è sempre una partita di calcio, non c'è bisogno di avere pressioni, quindi quello che facciamo veniamo pagati per questo, quindi con la massima tranquillità sono sceso in campo per dare un'aiuto ai miei compagni. Per Forlì come la vedo è uno scontro cruciale per noi, proprio il crocevia, perché vincendo stacchiamo l'ultima che sarebbe il Forlì, cercando poi di recuperare punti nella zona play-off, quindi è uno scontro abbordabile, ma sicuramente sappiamo che sarà pieno di insidie. Prima hai detto play-off, ci guardate ancora? Io penso che l'obiettivo della squadra sia proprio questo, quindi guardando il secondo tempo della partita di Domenica con la Reggiana, ma anche il primo tempo della partita con l'Ancona, se riusciamo in qualche modo a mettere insieme le due situazioni, penso che non possiamo toglierci grandissime soddisfazioni. Beh, è ovvio che un po' di competizione in campo c'è sempre, perché io ovviamente parto come secondo, ma c'è sempre la voglia un po' di superarlo, ma è proprio questo che penso che faccia anche il bene suo, perché comunque avere una concorrenza forte dietro gli permette di lavorare benissimo e sempre con i nervi tesi. E poi fuori dal campo siamo due ottimi amici, diciamo, mettiamola così. Vabbè, essendo il primo anno dei professionisti sono entrato un po' in punta di piedi, però comunque ho trovato uno spogliatoio formato da bravissimi ragazzi, prima che bravi giocatori, quindi mi hanno accolto benissimo, quindi sono molto contento di questo. Vabbè, essendo il primo anno dei professionisti sono entrato un po' in punta di piedi, che becchiamo.